Ghost e Soap hanno evitato un disastro, la diga. Hanno fermato Makarov. Fate lo stesso. Con Farah e Alex ci riusciremo. Grace è nella tua squadra, non scordarlo. Lo so molto bene. Bene, ragazzi! Siamo pronti al controllo preliminare! I controlli preliminari. Sì! Siamo carichi? Agiremo uniti. ULF 141 e Shadow. Tutti insieme. Gas? Tutti uniti, eh? Sei sicura? Se non facciamo così, abbiamo perso. L'energia utilitaria è sul passo. Ora controllo i motori. Ok. Vediamo. Shadow carico. Controllo ci siete. ULT2, ULT2. Precce a punto. Si vola! Shadow a Capo Gold. Siamo pronti. State qui dentro. Capo Gold Eagle, Shadow 1 in posizione. Shadow 1, squadra di terra al punto d'ingresso del cimitero. Fornirete copertura aerea mentre loro scovano le armi chimiche e maccaro. Certo, Capo. Shadow 1, la squadra di terra è in attesa al cimitero a Ovent. Siamo marcati con il cimitero. Siamo marcati con luci strobo. Confermare. Ricevuto. Attendete. Confermare visuale sulla squadra di terra. Ok, visto. Marco. Squadra di terra, riesco a vedervi. Ricevuto. Il bersaglio sono i due anga. Ci muoveremo al tuo segnale. Marco, minaccia al cimitero. Mantenete l'opposizione a terra. Sgombriamo l'aria. Artigliere, fuoco di copertura. Spazza via quei nemici. L'attacco in corso. Mettiamoci al lavoro, Shadow. I conni sanno di noi. Minaccia a nord-est, Janger. Nemici alla torre di comunicazione. Artigliere, inquadra subito quella torre. Sito Sam vicino alla torre. Artigliere, spara un missile su quel sito Sam. Onnice sta puntando. Colpisce quel sito Sam con un missile. Sito Sam nemico. Colpisce subito quel sito Sam. Uno di noi. Quello è pieno di buchi. Boom, baby. Innalci al nord-est, Janger. Rimici alla torre di comunicazione. Artigliere, inquadra subito quella torre. Sito Sam vicino alla torre. Artigliere, spara un missile su quel sito Sam. Onnice sta puntando. Colpisce quel sito Sam con un missile. Sito Sam nemico. Colpisce subito quel sito Sam. Onnice sta puntando. Colpisce quel sito Sam con un missile. Sito Sam nemico. Colpisce subito quel sito Sam. Colpisce subito quel sito Sam. Colpisce quel sito Sam con un missile. Impatto, bersaglio distrutto. Occhio a sud. Forze coni in ingresso al cimitero. Stato uno, squadra di terra in contatto. Sparate. Recevuto. Precediamo. A fuoco sul cimitero. Contatto confermato. Benvenuti Nordicstern. Col porteglio. La squadra di terra avanza attraverso il cimitero. Affermativo, sciado in copertura. Perfetto. Contatto. Sciado, truppo sotto attacco. Fuoco di copertura. Sciado conferma. Procediamo. Colpo a segno. Nemici al cimitero. Fuoco, fuoco, fuoco. Nemico a terra. Trado uno, attacco a segno. Continua così, la squadra di terra avanza. Ci siamo, squadra. Aereo di Conny in decollo. Estremità ovest della pista. Recevuto, Jet Conny. Marco il bersaglio. Colpisce il Jet prima che decolli. Gente, a lavoro. Jet decolla. Siamo nella merda. Jet in decollo. Artigliere a fondo sul Jet. Jet, nemico distrutto. Superiorità aerea shadow. Dei nemici attraversano la pista. Squadra, a diversi conni sulla pista. State a rifaro. Vi apriamo un barco. Ricevuto. Squadra in attesa a sud-ovest. Proteggiamo la squadra di terra. Non spariamo sui anga. Per il colpo. Arreso! Meno uno. Dimici in arrivo. Assegno. Una meraviglia. Squadre, procedete. Recevuto. La squadra avanza all'hangar 1. Coprili fino all'edificio bersaglio. Non sparate sugli angari finché non troveremo le sostanze chimiche. Makarov non deve vincere. Squadra di terra all'hangar 1. Andiamo dentro. Minacce in uscita dalle strutture sul lato sud della base. Marco. Artigliere non far avvicinare i conni a quell'hangar. Li copro io. Sado 1, il primo angare libero. Cerchiamo le sostanze chimiche. Rechiamuto. E vai! Fuoco di RFG! Certo, riuscito. RFG avvistato. Torre a sud dell'hangar 1. Temici diretti all'hangar 1. Shadow, neutralizzare gli RFG. Connie non deve distruggere gli angari. Temici in direzione dell'hangar 1. Ricevuto. Capo a squadra di terra. Rapporto. Fuoco nell'acqua all'hangar 1. Nessun arsenale chimico. Ho capito. Però siamo certi che Makarov non sostenga tutto nella base. Certo. Partigliere, non far avvicinare i conni a quell'hangar. Ricopro io. Sado 1, il primo angare libero. Cerchiamo le sostanze chimiche. Rechiamuto. Nemici diretti all'hangar 1. E vai! Fuoco di RFG! Eppure uscito. RFG avvistato. Torre a sud dell'hangar 1. Shadow, neutralizzare gli RFG. Connie non deve distruggere gli angari. Rechiamuto. Capo a squadra di terra. Rapporto. Fuoco nell'acqua all'hangar 1. Nessun arsenale chimico. Ho capito. Però siamo certi che Makarov lo tenga tutto nella base. Se non è in quell'hangar, sarà nell'altro. Partigliere, non far avvicinare i conni a quell'hangar. Ricopro io. Sado 1, il primo angare libero. Cerchiamo le sostanze chimiche. Di RFG avvistato. Partigliere, non far avvicinare i conni a quell'hangar. Ricopro io. Sado 1, il primo angare libero. Cerchiamo le sostanze chimiche. Rechiamuto. Di RFG! RFG avvistato. Torre a sotto dell'hangar 1. Sado neutralizzare gli RFG. Conni non deve distruggere gli angars. Amici diretti all'hangar 1. Rechiamuto. Capo a squadra di terra. Rapporto. Fuoco nell'acqua all'hangar 1. Nessun arsenale chimico. Ho capito. Però siamo certi che Makarov lo tenga tutto nella base. Se non è in quell'hangar, sarà nell'acqua. Controllate bene prima di proseguire. Ok, si tacceremo a fondo l'hangar. Sado 1, ci dai copertura? Non ti pianteremo in asso, Kilo. A tutte le unità. Qui niente arsenale chimico. Angar 1 pulito. Squadra di terra all'hangar 2. Sado in copertura dall'alto. Ok, Gold Eagle. Ci siamo, squadra di terra. Ricevuto. Andiamo all'hangar 2. Colpi di mortaio in arrivo da nord-ovest. Artigliere, spara qui in mortaio. Mortaisti i nemici uccisi. Makarov, quel bastardo distruggerebbe la base pur di tenersi le armi chimiche. Sono nell'altro hangar. Forse c'è anche lui. Faccio fuoco. Razzini in arrivo. A est dell'hangar. Ficcato. Colpisci quegli RPG. Fuoco di RPG. Amore dall'alto. Artigliere, concentra il fuoco sull'RBG. Grace, l'RBG! A tutti, hangar 2 libero. Attenzione, l'arsenale chimico è qui. E Makarov? Negativo, lui non c'è. Forse è vicino. Squadra di terra, neutralizzare le fruttanze. Shadow, restare in copertura. Proteggeteli finché il lavoro non è finito. Ricevuto, Gold Eagle. A tutte le unità, comunicazioni conni intercettate fuori dalla base. Stanno mobilitando rinforzi e veicoli corazzati. Quelli vi faranno penare. Ricevuto, capo. Carro nemico, lato nord della base. Shadow 1, quel carro non deve distruggere l'arsenale chimico. Artigliere sai cosa fare? Elimina quel carro. Farò un misile a quel bastardo. Lì c'è la torre radio. Attenzione. Carro nemico distrutto. Bene, odio quegli affari. Veicoli nemici. A nord. Ricevuto, di Marco. Fuoco su quei veicoli. Avanzano verso l'anger 2. Helicotteri nemici in decollo a nord-ovest arrivano. Visti? Helicotteri marcati. Schiacciano quegli incendi. Nemici in decollo a nord-ovest arrivano. Visti, helicotteri marcati. Piacciano quegli incendi. Nemici in ingresso nell'angar. Missili in arrivo. Temici in fuori dall'angar. Bene. Tenili lontani dall'angar. Allontanali dall'angar. Proteggi la squadra di me. Singer vicino la torre di controllo. Visti in decollo a nord-ovest arrivano. Visti. Helicotteri marcati. Piacciano quegli incendi. Precci. Nemici in ingresso nell'angar. Allontanali dall'angar. Proteggi la squadra di me. Missili in fuori dall'angar. Schiacciano 1, coprite l'angar. Teneteli lontani. Carro e nemici in direzione nord. Non permettete al carro di colpire le sostanze chimiche. Sto a fare alziani. Sto a fare alziani. Sto a fare alziani. Non parla. Così chi fa? Direi scoppiando ben formidamente. Stanno puntando al deposito di carburante verso nord. Attenzione, shadow 1. Aprono le porte di un edificio all'estremità ovest della pista, vicino al cimitero. Certo nemico a ovest della pista. A tutti. Connie sta preparando un altro attacco. Facciamoli fuori. Siente, a lavoro. Questo è il caposaldo di Connie, inutilità. Passatelo via! È in decolla! Siamo nella merda! Marito! Shadow 1, proteggete la squadra di terra. Jet in decollo. Capinieri, appunto sui jet. Paral davanti a lui. Non fateli avvicinare! Così si fa! Graves, arrivano veicoli nemici! Sono in contatto al deposito di Carcurasse verso nord. Attenzione, Shadow 1. Aprono le porte di un edificio all'estremità ovest della pista, vicino al cimitero. Jet nemico a ovest della pista. A tutti! Connie sta preparando un altro attacco. Facciamoli fuori! Gente, a lavoro! Questo è il caposaldo di Connie, inutilità. Passatelo via! È in decolla! Siamo nella merda! Mercatemi questa, stranci! Jet numero 2, distrutto. Shadow 1, proteggete la squadra di terra. Carico e corre. C'è l'estero, avete tutto? Merda! Visto in arrivo. Non fateli avvicinare! Nemici in ingresso nell'anca. King, non in conti di Pitero! Porta, si riempie. Nemici fuori dall'angar. Missile in arrivo. Certo, riempie. Quello è andato. Angolo nordale! Capo a tutte le unità. Abbiamo conferma che Makarov è nella scuola. La base, tenterà il tutto per tutto per l'arsenale chimico. Squadra di terra, pronti all'estrazione? Negativo, armi chimiche ancora attive. Serve tempo. Ricevuto. Conto su di voi. Graves, voi restate di guardia. Se vedete Makarov, abbattetelo. Ok, gol di gol. L'alicottero nemico in arrivo da nord-est. È Makarov. Shadow, fuoco su quel pezzo di merda. Ricevuto. Diretta, poco da vivere. Facciamo la finita, Shadow. Ricevuto. Armi pronte. L'alicottero vuole distruggere l'angar. Serve aiuto! Abbattilo, non fargli colpire le sostanze chimiche. L'alicottero ci prende di mira. L'alicottero precipita. Ti abbiamo fatto in culo, alla grande! A tutti, l'alicottero nemico abbattuto. Vladimir Makarov è morto. Ok, sostanze chimiche neutralizzate. Squadra in uscita dall'angar. Graves, appena la squadra di terra è fuori, scanciate un missile su quell'angar. Seppellite l'arsenale con Makarov. Ricevuto. Shadow 1, squadra di terra al sicuro. Distruggete l'angar. Battiniere, vai. Assegno. Angar distrutto. Ecco, un lavoro fatto come si deve. La sfida a Nia, Vladimir. Nella vita ci sono tre cose a cui non si sfugge. La morte, le tasse e me. È stato un piacere avere a che fare con voi. Capo, rientro alla base. Chiudo. Ricevuto, Shadow. Un lavoro davvero eccellente. Buon rientro, figliolo. Grazie dell'aiuto, Shadow. Sei a tutte le unità. L'uccisione non è confermata. Ripeto, l'uccisione non è confermata. Dobbiamo cercare a identificare Makarov. Capo Gold Eagle a tutte le unità. Avete ordine di ritirarvi. Là sotto sono rimaste solo macerie bruciate. Non abbiamo bisogno di ulteriori conferme. Sei qui uno. Qui sei. È finita, John. Abbiamo spedito quel bastardo all'inferno. Già, l'abbiamo detto anche di Graves, vero? Makarov è morto, capitano. Non lasciarti tormentare da lui. Chiudo. Serpard vede solo ciò che vuole. Il suo nome su una vittoria e un'altra medaglia sul petto. Tu cosa vedi? È ciò che non vedo a preoccuparmi. Se è vivo... Ce lo farà sapere, capitano. Dove e quando resta da vedere.